A Salerno sperano di aver trovato finalmente un porto sicuro da cui iniziare una nuova vita. I 248 migranti sbarcati dalla Geo Barents, la nave di medici senza frontiere, hanno alle spalle storie di violenza, disperazione e dolore. Ieri ho parlato con un ragazzo molto giovane, aveva provato una prima volta a attraversare il Mediterraneo dalla Libia, è stato intercettato dalla Guardia Costiera Libica, riportato in uno di questi centri di detenzione. Gli hanno bloccato sia le mani che i piedi e lo hanno aggredito, lo hanno picchiato con dei bastoni e dei tubi di ferro. Una donna proveniente dal Cameron mentre era in viaggio nel deserto con la sua bambina. L'ha vista morire per una malattia, tante altre all'arrivo in Italia ancora non riescono a credere di avercela fatta. Quasi tutte ci hanno parlato di violenze subite, alcune delle quali ci hanno raccontato di molteplici stupri avvenuti durante il viaggio, non solo nei centri di detenzione in Libia ma anche durante la traversata del deserto. Storie di dolore ma anche di speranza. A bordo della Geo Barents è nato Ali piccolo eroe che dopo aver percorso chilometri nel grembo della madre ha emesso il primo vagito durante il viaggio. La ragazza era esausta però è riuscita a dare alla luce questo bambino di tre chili e mezzo. Chiaramente entrambi, come in qualunque circostanza, avevano bisogno di cure post natali che su una nave chiaramente non potevamo garantire. Quindi abbiamo richiesto immediatamente l'evacuazione medica che poi è venuta verso Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia.